Ed eccoci qui con una nuova recensione quest'oggi per parlare di Belfast Film che non avevo visto al cinema, la Universal me l'ha mandato molto gentilmente e quindi ho avuto la possibilità di recuperarmi questo film, uno dei tanti che mi sono perso per gli Oscar Pre-scritto e ovviamente diretto dal premio Oscar Kenneth Branagh Questo film racconta la storia della famiglia di Bardi che vive in un quartiere in maggioranza protestante e la storia si ambienta negli anni 60 La storia inizia con tantissimi colori, vediamo la Belfast di oggi, ne vediamo i monumenti, i quartieri, tutto a colori e poi ad un certo punto bianco e nero Vediamo questi personaggi giocare, passeggiare, chiacchierare, soprattutto Bardi con i suoi amici e ad un tratto si scatena l'inferno In un quartiere di famiglie protestanti ci sono anche delle famiglie cattoliche che sono relativamente poche e un giorno, se non sbaglio era il 15 agosto, tutta la comunità viene stravolta da una ribellione e improvvisamente Bardi e la sua famiglia si ritrovano in questo caos e devono decidere se restare a Belfast o migrare andarsene e abbandonare il luogo che hanno sempre amato gli amici che hanno sempre amato, la famiglia e tutti i conoscenti Una frase abbastanza iconica per descrivere questo film, la possiamo trovare proprio sul DVD Blu-ray A prescindere da quanto si vada lontano, le origini non si dimenticano mai Perfetto, film descritto perfettamente Film toccante Questa è la parola che mi sento di utilizzare per questo film So che non da tutti è stato molto apprezzato Qualcuno mi sembra che l'ho anche descritto poco personale Lo trovo molto personale Quest'anno mi sento di paragonarlo a... È stata la mano di Dio di Sorrentino Perché c'è tanto Sorrentino in quel film Tra l'altro non ho mai fatto la recensione di quel film Dovrei farla Anche se poi ai conti sono due film totalmente diversi Semplicemente i due registi hanno messo loro stessi all'interno della storia Nei due protagonisti Secondo me Buddy rappresenta appieno Kenneth Branagh Anche nelle scene extra del Blu-ray fa riferimento a questa cosa Quindi l'avevo percepita e la conferma Kenneth Branagh Poi per carità non sarà successo 100% quello che ha raccontato Però c'è molto del regista all'interno di questa storia Il film è molto dolce Vediamo questo Buddy Kenneth che vive con la sua famiglia Va a scuola Cerca di studiare, di essere un bravo ragazzo Però si contrappongono questi vicissitutini Legati a questo caos che si genera fra protestanti e cattolici C'è la religione in gioco Infatti il bambino e la famiglia vanno in chiesa Ci si ritrova a pensare cosa sia giusto, cosa sia sbagliato E sono temi trattati tutti in modo sintetico ma mai banale Sicuramente il tema portante sono i ricordi, la famiglia e le origini Il tema portante di questa cosa probabilmente è il papà Papà che si trova costretto a dover fare avanti e indietro Perché per lavoro e per portare a casa la pagnotta Deve per forza andare via per lavoro E quindi fa avanti e indietro Il weekend sta con la famiglia Però poi chi si occupa dei bambini è la loro mamma C'è anche la tematica del rispetto tra uomo e donna E questa cosa la vediamo sia tra il papà e la mamma di Buddy Che con i nonni Interpretati da Judi Dench e Siaran Heinz Non so minimamente come si pronuncia il suo nome È un film ben diretto, gli attori sono tutti fantastici Anche i ragazzini mi hanno trappato sorrisi E non lacrimucce però mi hanno tenuto incollato allo schermo del televisore Secondo me Ken Elbranag confeziona un ottimo prodotto È un film che vuole puntare dritto al cuore di ogni persona Chiaramente qui si parla di Belfast Però la cosa è applicabile in ogni dove Un cittadino di Roma che è costretto a migrare Che ne so a Napoli, a Milano e viceversa Per carità, quindi la storia tocca un po' a tutti Penso che tutti siamo un po' legati alla nostra città Al nostro paese, alla nostra famiglia E se fossimo costretti o siamo costretti Perché immagino che molti di voi abbiano affrontato Affronteranno questa tematica Si ritrovano a pensare che non vorrebbero lasciare il posto dove sono cresciuti Ma sono costretti a farlo Vogliono farlo Però comunque c'è sempre il rovescio della medaglia Anche se si vuole farlo Comunque si abbandona, si lascia qualcosa Nel posto dove si è cresciuti E questo è bello Vi sento solo di fare elogi a questo film Ci sono difetti? Qualcuno sicuramente le avrà individuati L'unico che faccio io è proprio nella scena iniziale Qui c'è tutto il marasma dei protestanti Che distruggono la strada principale Tra il fatto del bianco e nero E il quantitativo di comparse che ci sono in scena Qualche momento risulta essere poco chiaro C'è una leggera confusione di troppo In una regia in quel frangente in cui era un po' più action In cui è stata poco curata Probabilmente bastava semplicemente avere la camera leggermente più distante E darci più respiro a noi per la lettura Ma questa è veramente una minuzia Comunque il film funziona e funziona veramente bene E tocca dritto al cuore Perlomeno il mio Spero che piaccia anche a voi Ve lo consiglio altamente Sicuramente lo potete adesso trovare per l'acquisto Per chi non l'avesse visto al cinema Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo film A me è piaciuto da morire Mi raccomando lasciate un like E noi ci vediamo presto con altri video YouTube